scorriamo velocemente tutti i campioncini in colore che sto preparando a destra vi metto sempre il campioncino già asciuto dove faccio la seconda passata per vedere come reagisce la velatura dello stesso colore perciò guardate a destra per vedere quanto è importante il viraggio d'asciugatura dove le magari le inquadrature lo permettono un po di più per vedere come quanto perde in brillantezza in questa marca è piuttosto evidente in alcuni colori anche molto di più vi faccio vedere come il giallo di cadmio dopo dieci minuti dalla stesura era ancora bagnato era molto denso quel pigmento non mi è piaciuto tantissimo infatti è proprio un giallo caldo che non uso mai e penso userò sempre meno grazie a tutti 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 Della palette dei White Nights Riarrangiata da me Quando la comprate Ha un altro arrangiamento Però io li ho voluti mettere così Questo è come si presentano Come vedete i rossi Sono molto carenti Questo viola in realtà È molto bello E anche il quinadricone lilac La verità Il quinadricone rose secondo me perde molto E gli arancioni Della linea White Nights Con le linee di diversi brand Però della mia palette personalizzata Che vi dimostro Che vi ho mostrato nel video precedente a questo Sarebbe questo Insomma non mi voglio dilungare Perché ne abbiamo già parlato Io ho scelsi un aureolin di Daniel Smith Come giallo freddo Invece come giallo caldo Un Indian Yellow Della Sennelier Che è stato praticamente Uno dei primissimi colori Che ho comprato Della Sennelier Se non sbaglio Erano quattro E questo era uno di questi E non mi sono pentita Perché tra questi due Decisamente preferisco questo Ma partiamo dall'inizio Come giallo freddo Mi piace tantissimo La variante Degli White Nights E sceglierei assolutamente quello Come potete vedere Il giallo di cadmio Limone No cadmio limone Non so mai come tradurli Comunque Cadmio Lemon Di White Nights Ha una Non è molto trasparente Sembra semi trasparente Addirittura semi opaco Ma ha un È veramente molto limpido E anche qua Nella velatura Mi piace tantissimo Se invece osservate Aureolin E ha più texture Ha più grana Ovviamente non è un colore Che granula Tuttavia Non Io preferisco Dei colori Che fanno Delle 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 mani Molto lisce Quasi Digitali Ok Ecco Questo Cadmio Limone Di Dei White Nights Decisamente Mi restituisce Il risultato Che io cerco Mentre Aureolin È già più Non so se riesco a vedere Ma si si vede Si 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 vede bene E anche meno intenso E anche meno freddo Rispetto a questo Quindi assolutamente Promosso Cadmio Limone È veramente un colore Bellissimo Per quanto riguarda La Light Fastness La Durabilità Alla Esposizione Della luce Perdonatemi Io guardo tantissimi video In inglese Ci sono Magari Pochi O comunque Ne seguo di meno In italiano Quindi per me Tradurre la lettera È un po' Problema Ma Seguitemi Ho letto Che Aureolin Non è Un pigmento Molto durevole Per quanto È un po' Fuggitivo Ecco Ecco il termine Evviva l'italiano È un pigmento Già più fuggitivo Devo informarmi Riguardo questo Della Daniel Smith Ma vi farò sapere Comunque Lo troverete Sovraimpressione Quando Il video Sarà montato Anza Yellow È un colore Di transizione Tra questo freddo E questo caldo Della linea White Nights È davvero Intenso E mi piace Tantissimo Anche lui Ha Questa Anche lui È molto Pulita La stesura Del colore È venuta Molto pulita Per un'illustrazione Più Liscia Assolutamente Lo consiglio E poi È davvero È veramente Molto intenso Guarda Ve lo Confronto di nuovo Con Aureolin Cioè guardate La differenza È veramente tanta È molto trasparente Anche Anche Aureolin Ma l'intensità Non si discute Insomma White Nights Queste Sennelier In questo caso È Questo colore Che dà Più Texture Come potete vedere Diciamo che Dipingendo Molto probabilmente Si noterà Meno Anche perché Difficilmente Dipingerete O comunque Io personalmente Con un Con il colore Bello denso Da pigmento Quando si scava Bene Nella tavola Ah ecco Un'altra Cosa che volevo Farvi notare Questo colore Degli White Nights È un po' Problematico È una grossa parola Sono degli acquerelli Meravigliosi Però è già più Difficoltoso Rispetto agli altri All'attivazione E ho dovuto scavare Un po' di più Infatti qua Se noterete E vi metto anche il video Dove vi faccio vedere Ci ha messo un sacco Da asciugare Perché probabilmente È un pigmento Molto denso Dopotutto essendo Un cadmio Sono pigmenti Un po' Molto opachi Infatti vedete qua Che non è per niente Trasparente E sono anche Pesanti Perché comunque Penso che provengano Da 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 Mitali Il Colore di Senelier È più trasparente Non è trasparentissimo Ma per quello che devo fare io È Eccelso E ha una texture Cioè non ha praticamente texture Si vede pochissimo Ma è veramente molto liscio Quindi Sicuramente Lo terrò nella mia palette Perché è un giallo Molto caldo È molto intenso Decisamente Bisogna usarne pochissimo Perché prende subito Il sopravvento Sugli altri colori Quindi è un colore Un po' difficile da gestire Che non consiglio molto Ai principianti Che vogliono fare Illustrazioni Più teni O più manga A meno che Proprio non facciano A meno che Non facciano Magari Dei 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 Dipinti più astratti Dove vogliono Proprio questi colori Violenti Molto forti Allora è assolutamente Indicato Perché questo Vi prende subito la mano Cioè prende Il sopravvento Immediatamente Per cui È un colore Molto Molto intenso Lo vedrete L'avrete visto Nel video precedente E Insomma Però Veramente bello Questo Non ho una Controparte Dorata Aranciata Così Nella mia palette Tra i due Comunque Vabbè Questi A meno che Non li comprate Singolarmente Questi colori Io vi consiglio In realtà Vederli Entrambi Sono Davvero belli Tutti e due Questo Sì Hanno entrambi Comunque La caratteristica Che io ricerco Di Di essere Molto Levigati Non so se si può usare Questo termine Per gli acquirelli Ma ormai avete capito Quello che Mi piace Vedere Nei Nei Dipinti Questo Tende molto Al giallo Questo è più spento Però ripeto Quando andate a colorare È raro Che voi fate Date delle mani Così pesanti Perché poi Io veramente Scavo per bene Nella Nella pastiglia Nel godet Degli acquirelli Per avere Il colore Più Cioè per avere Dal massimo Al più Al più diluito E quindi È difficile Che uno Va a mettere Questa quantità Di pigmento Anche perché Forse Magari per mia ignoranza Però non è tanto bello Quello che ne c'è Ripeto A meno che non fate Delle cose particolari Ma nelle illustrazioni Tenderete ad usare Sempre queste Cioè Il range È questo Raggiungendo questo Vedete come Le velature Ma quando vado a fare La seconda mano Non scavo Nella paletta A meno che non ci sono Proprio dei colori Molto deboli Che vedremo Successivamente Ma comunque Il range Che voi userete È questo Tenete presente E hanno Dei sottotoni Molto diversi Perché se noi Andiamo a coprire Questo tende Più al giallo Ed è molto brillante Questo invece Il golden È più Spento Tuttavia Se andate A colorare Ad esempio Una Una pelle Un tono Della Della pelle Questo vi darà Un sottotono Giallo Bellissimo Vi farò vedere In video Successivi Dedicati Al colorare Le carnagioni Mentre questo Darà Un colore Meno Giallastro Quindi magari Lo indicherei Di più Per una carnagione Più Rosata Invece Questo è Per una carnagione Un po' più Giallastra Sono entrambi Molto belli Sono molto contenta Che li abbiano Inclusi entrambi Me ne sto accorgendo Ora perché Comunque Quando ricevete Magari la palette Sareste un po' Sono molto simili Sono davvero Molto simili Però Vedete La piccola differenza Per l'appunto Con il sottotono Quando andrete A dipingere Perché Traspare Nel dipinto In maniera Molto diversa Il rosso tiziano Degli White nights È decisamente Più persistente Vedete come Il colore Rimane Molto intenso Fino alla Finale stesura Molto diluita È opaco Tende ad essere Più opaco Però ripeto Stando in questo range Infatti vedete Quanto perde subito Però Con velature Aggiuntive Al confronto Con la Dahlia Smith Il pigmento Il colore Si chiama Trasparent Purple Orange Quindi parte Già dal presupposto Che è il trasparente E lo vediamo Tantissimo La differenza Con questo Quale sceglierei? Beh di sicuro Purple Orange Ha forse più texture Tra virgolette Ma è qualcosa di abbastanza Improcedibile Perché sono entrambi Molto lisci Però è trasparente Quindi molto probabilmente Andrei a scegliere questo Perché anche Miscelandolo Con Altri Con altre nuance Andrei Non andrei a sporcare Poi Il colore Molto bene Abbiamo terminato Con la comparazione Delle gambe Gialle E arancioni Passiamo ora Alle rosse Che riguarda Vedremo Vedremo In un attimo Più In dettaglio Iniziamo Col confronto Di questi due Cadmium Red Light E Vermilion White Nights Versus Migella Mission Gold Comprato da me Separatamente Per avere Un rosso Caldo Sono entrambi Molto belli Questi Questi due Rossi Certo Preferisco Il Vermilion Perché è molto Più intenso Anche se Il sottotono È molto simile Simile E comparabile E entrambi Fanno delle sfumature Molto morbide Ripeto Comunque Che è un problema Dei rossi Della White Nights E che vanno A perdere In brillantezza Con l'asciugatura Per cui In una palette Personalizzata Non è un colore Che andrei a scegliere In più È comunque Un cadmium Si tratta Di metalli pesanti E sarebbe Sempre meglio Non abusarne Anche perché Poi A seconda Dell'uso Che si fa Degli acquinelli Vanno A essere dispersi Nell'ambiente E nell'acqua Quindi vanno Poi negli oceni Insomma Farne un uso Più considerevole Sarebbe Secondo me Più adeguato Quindi Un punto Ancora di più Un punto a favore Della Mijello Mission Gold Per quanto riguarda Le due proposte In alto Come sempre White Nights In basso I colori Di diversi brand In questo caso Solo due Della mia palette Personalizzata Che abbiamo visto Nella puntata Scorsa Scorsa settimana In altro Questi rossi Perdono intensità L'abbiamo visto Anche Negli swatch All'inizio video Dove Il colore Appena steso È molto brillante Intenso Mentre Appena asciuga La brillantezza Perde Quindi Sono colori Che secondo me Sono molto consigliati A chi dipinge Paesaggi Perché sono più naturali Sono meno finti Per questo Io preferisco Invece Quelli sotto Della palette Personalizzata Perché sono dei colori Molto molto brillanti Scelti appositamente Perché Tendono A Non perdere Molto In brillantezza Ripeto Questo Non può essere Un confronto Pari pari Perché I pigmenti Che vedete Sulle due righe Sono diversi Però Man mano Che Affronteremo Questi campioni Su tutte le marche Che io possiedo Possiamo vedere Quali sono Le diverse proposte Che possiamo trovare Perché magari Ci sono persone Che hanno Le mie stesse esigenze A livello Di pittura E quindi Allora Io consiglio Assolutamente Di andare Su marche Come la Mijello Mission Gold Che sono Veramente Molto intense Ma anche La Sennelier La Sennelier Ci mette Magari Ad attivarsi Nel senso Che il primo strato Può risultare Un po' Più Trasparente Però Andando Strato su strato Che è la forza Di questo brand Andiamo a ottenere Dei colori Di un'intensità Magnifica E unica Purtroppo È una cosa Che ho visto Spesso Nei miei dipinti Perché ho usato Molto Questi White Nights Che ho amato Tantissimo E tuttora Apprezzo Vediamo di capirci Solo che ora Sono molto viziata Da altri brand Super qualificati Però Quando vai a fare Un'illustrazione Che tende a colori Molto vivaci Molto neon Si vede Parecchio Qua guardate Anche Messi vicini Non può Tenere il confronto Con La Sennelier Neanche Da vicino Perché vedete Vi parlo Sempre di sottotono Nel sottotono Secondo me È la parte centrale Del campioncino Dove ci fa vedere Una diluizione No 50% di acqua E 50% di pigmento Per dire Seppur sono simili Avviciniamo Un Sennelier Un Mijello A questo rubino Tuttavia Se andiamo a vedere Le velature È lì Che c'è la forza Di un pigmento Della Sennelier Ad esempio In rubi Se guardate Anche nella velatura Comunque Questo colore È spento Più indicato Magari Per più Paesaggi Cose Più naturali Invece La Sennelier Si incende Si infiamma Guardate Questi colori Sono impressionanti Eppure Il sottotono È molto simile Però con le velature Come vedete Si esprime Poi chiaramente Questo Sennelier È anche abbastanza Opaco È un semi opaco Secondo me Per cui Se volete Delle soluzioni Più trasparenti Ci sono Sì Guardate Questo della Mijello È sia brillante Che trasparente Per cui Cercate Ma anche Della Sennelier Stessa Delle altre soluzioni Con altri pigmenti Che siano Meno opachi Carmine È una variante Di rosso freddo Si tratta Di un pigmento Organico Carmine È ottenuto Dalla Cocciniglia Sono dei parassiti Che conosce molto bene Chi abita in campagna E sono amatissimi Da degli insetti Molto famosi Amati le coccinelle Se ne cibano Ecco Quindi di sicuro Non è un pigmento Molto vegano Per chi lo Per chi Ricerca dei colori Più Vegan friendly L'ho accostato A un rose mother Perché Seppur un rose mother Tende più al fucsia Anche il Carmine È comunque È molto È molto rosato Per cui possono Avvicinarsi tanto E Qua non si vede molto Diciamo che Carmine è molto carino Come colore Seppur Io Ormai Conoscendo la Sennelier Punteri su questa Anche perché Guardate che morbido Questa Questa sfumatura Ed è anche Molto brillante Quindi Sceglierei assolutamente Il rose mother Ecco la parte Dei miei colori Preferiti I viola Guardati quantini Ne ho Della palette Personalizzata Questo è Quinadricon Rose Di White Nights Molto bello Ma anche lui Va ad asciugarsi E perde tantissimo Sono colori che Magari si usano Per fiori Per Nel mio caso Che faccio più Illustrazione Manga Anime Cartoon Si vede tanto La perdita in colore Soprattutto se poi La paragoniamo A dei colori Volutamente Fluorescenti Quindi non è Una comparazione Onesta Però ripeto Questo è quello Quello che ricerco Nei pigmenti E guardate quanto È più brillante Seppur opera rose È piuttosto deludente Perché non è molto forte Come colore È molto trasparente Anche con più passate Come potete vedere Non dà mai Una velatura Violenta Proprio forte Importante Come magari Il Bright Opera Di My Gello Mission Gold Tuttavia possiamo vedere Come traspare Proprio questa brillantezza Mentre Queen Hadricon Rose Di White Nights Tende più Al colore sporco E più sporcato Sarà colpa Della carta Questo non ve lo so dire Questa è un'artesa Ve l'ho mostrata All'inizio di queste serie di video La versione Expert Però in molti colorano su carte Tra virgolette Burde Cioè non è che possiamo sempre Permetterci anche per fare pasticci Album Per insomma Improntare i nostri disegni Su carta cotone Per cui è anche interessante Vedere come questi colori Non operano al loro meglio Su carte blasonate Ma piuttosto Sulle carte che usiamo Tutti i giorni Perché poi è lì Che magari ci godiamo Più un disegno Quanto più Che sulla carta Bella di qualità Quindi Questo White Nights Guardate come si scurisce Cioè un colore del genere Che è un magenta Per me il magenta Deve essere un colore Sgargiante E nel caso Degli White Nights In confronto A queste marche Volutamente Cariche Perde tanto Se però Li vedete Tutti nel loro contesto Cioè senza Togliendo completamente La mia palette È diverso il confronto Vedete che comunque Sono colori molto brillanti Quindi forse Il consiglio è Usare questi acquerelli Senza altri Molto brillanti Perché altrimenti Il confronto Li Eclisserebbe Un po' Quinadri con l'Hilac È un altro Dei miei colori preferiti L'abbiamo visto Due puntate fa Come Ombra Per il blu Ultramarino Oltremare Perdonatevi Sto confondendo le lingue Entrambe Queste Queste Marche usano Lo stesso pigmento E Qua non c'è scelta Perché Sono due colori Che comunque Tendono un po' Al desaturato E non sono accesissimi Sì Nella Holbein Vediamo Trasparire Questa Maggior brillantezza Ma comunque Quello dei White Nights È veramente Bello Intenso E di caratteri Quindi In questo caso Non ho proprio Nulla da dire È un colore Che è quello che uso Di più Tra l'altro Nella mia palette Quindi Veramente Molto apprezzato Meraviglioso È molto trasparente Che c'è da dire Certo Se devo scegliere Ovviamente Vado su Holbein Però È veramente Una scelta Molto Molto interessante In questa palette Giusto Per l'amor del viola Accostiamolo Anche a Mineral Violet Io li uso Molto insieme Questo Quinadricon Lilac O meglio Violet E Mineral Violet Pigmenti diversi Però è una versione Più calda Più Più Che tende al blu Rispetto a quella Rossastra Di questi Quinacridon Bellissima Sempre usato Per le ombre È molto intenso Meraviglioso Che vi devo dire Lo otterrete Mescolando Un quinadricon L'ala Con un po' di blu Otterrete questo viola Molto desaturato Ma più tendente al blu Il viola Degli White Nights È una gioia Per gli occhi Da guardare Guardate l'intensità E la bellezza E la profondità Di questo viola Quello Della Magello Mission Gold È più brillante Ovviamente È più trasparente Se vogliamo dire O meglio Il bianco Della carta Traspare di più Ma vi assicuro Che quello Dei White Nights Non ha assolutamente Niente da invidiare Sono veramente belli Molto molto belli Entrambi Tra l'altro Guardate che Sfumatura morbida Che dà E anche quella velatura È molto molto bella Mi piace tantissimo Quello Quello dei Micello Mission Gold Ha più Mettiamola così Il retrogusto Sul rosa Vedete C'è un minimo Sottotono Fuchsia Invece Il Violet White Nights È proprio Un sottotono Che tende al blu Caldo Come un Oltremare Per dire Quindi Hanno dei viraggi Leggermente diversi Però entrambi Molto Molto affascinanti Io Forse sceglierei Proprio quello Della White Nights Perché È molto Con il blu Partiamo subito Dai cobalti Sia il blu Di cobalto Per l'appunto Che il blu Ciruleo Sono entrambi Pigmenti composti Da cobalto Un metallo Piuttosto duro E per cui Questo motivo Per cui Entrambi questi colori Hanno Una Elevata granulazione Non solo In questo brand Ma È una cosa Piuttosto Comune Anche nelle altre A parte Nella Mijello Perché se non sbaglio In questo brand C'erano molti colori Di convenienza O comunque È risulta Meno Texturizzata Rispetto alle altre Comunque Sono colori Molto Abbastanza Spenti Perché comunque È una caratteristica Del Colore in sé Anche In altri In altre recensioni Che ho potuto vedere Di altri brand Siamo sempre lì Mentre Per quanto riguarda Bright blue Corrispondevano Blu di ptalo In questo caso Green shade Poi abbiamo L'ultramarine Che abbiamo visto Due puntate fa È un colore Bellissimo Uno dei miei preferiti Che è questo In down frame blue Questi sono I colori classici Che troviamo In qualsiasi In qualsiasi set Quindi Un blu di ptalo È una È il classico Blu oltremare Se volete Avere una recensione Più approfondita Su blu oltremare Degli White Nights Vi prego Di andare Nel link Che vi lascio Sul video Nel video A lui Interamente dedicato Qua Giusto Per Per accennarlo Diciamo Che questo colore Tende a perdere Molto Ma non solo Come caratteristica Degli White Nights Ma è proprio Il PB29 In sé Che perde In brillantezza All'asciugatura Mentre Questo blu di ptalo È veramente bello Molto intenso Niente da dire Molto Molto carino Mettiamolo di fianco A quello Della Sennelier A quelli Professionali Non vedo Grosse differenze Forse Quello Della Sennelier Ha fatto Una velatura Più Più Omogena Ma lì Anche Magari L'errore Umano Quindi Assolutamente Non lo Tengo conto Sono entrambi Molto belli E anche La White Nights Ha fatto Un'ultima Lavoro Le ptalo Giannini Poi Sono dei pigmenti Molto trasparenti E brillanti Di loro Per cui È più facile Raggiungere Dei risultati Considerevoli Quindi Entrambi Un punto Affiancato Al blu Di manganese Vi voglio Far vedere Come questo Colore Non aumenti Mai D'intensità Potreste Usarne Quanto Ne volete Ma Almeno Nel brand Della Holbein È un pigmento Che Non Va Mai Nello Scro Qua Come Potete Vedere Nelle Velature Si tende Ad andare Sempre Più Sull'intenso In un blu Sempre più Freddo Invece Il blu Manganese Rimane Sempre Brillante Quasi Neon Quindi È per questo Che io Poi L'ho Scelto Nella mia Palette È anche Molto morbida La sfumatura Quindi Tanti punti A favore Bellissimo Veramente Molto Molto Bello Il blu Oltremare L'abbiamo Già Visto Ma Per Rigore Della Recensione Li Affianchiamo Comunque Penso Intenso E come Caratteristica Di questo Brand È molto Morbido Non presenta Un'evidente Granulazione Che io Apprezzo Tantissimo Mi piace La granulazione Magari Messa Come Accenno Non come Colore Magari Di fondo Magari Cambiere Idea Comunque Come potete Vedere È molto Più Brillante È molto Più Intenso Quello Della Senne Li E La Fermo Qua Questo È il mio Blu Preferito Degli White Nights È l'unico Che Ho di tutti I miei Acquirelli Con questo Colore È un Blu Molto Intenso Dessaturato Bellissimo Che Assolutamente Penso che Riacquisterò Ho il Desiderio Di fare In futuro Una paletta Interamente Dedicata Ai colori Scuri Come Ad esempio Iperilin Mi piacciono Tantissimo E Indien Blu Piccola Apparenza Ci ho messo Tipo Un anno Per Saper Pronunciare Per me Fino a Ieri Era Indien Blu Comunque Chiuso Parentesi Sicuramente Sarà Presente In questa Palette Di scuri Perché è un colore Veramente Di gran carattere Con i verdi C'è poco Confronto Con la mia Palette Perché Non è un colore Che io riesco A integrare Nei miei dipinti Per cui c'è Veramente una Carenza Di colori Di convenienza Col verde Invece La White Nights È molto Forte E ci presenta Dei colori Stupendi Quello Smeraldo Fantastico Un PG7 E un Viridian Loro Lo chiamano Verde Smeraldo È uno Dei colori Che non Perdono In brillantezza Con Della White Nights O comunque Non è Così evidente Ed è Veramente Fantastico Così come Quel Turquoise Blu Che riprende Il pigmento Che abbiamo Visto In Bright Blu Più L'aggiunta Di Viridian Quindi Gli dà Questo Tono Ancora Più Verde Che tende Per l'appunto Al turchese Bellissimi Yellow Green È Super Brillante Tendente Al giallo Come il nome Ci lascia Intuire Sono colori Molto Finti Cioè Questo Yellow Green Lo vediamo Nell'erba Che appena Spunta Dal Prato Quella Proprio Tenera Tenera Che ha Questa Tendenza Verde Brillante Che tende Al giallo Guardiamolo Da vicino Questo Turchese È di Una Preziosità Unica Ha Un'intensità Meravigliosa È stato Protagonista Anche Del Secondo Disegno Che ho Fatto Della Serie Cromania Se lo Si vuole Più Chiaro Si lascia Si lo Si duilisce Ma guardate Che intensità Che raggiunge Con più Valature Fantastico Non c'è Molto Confronto Ma se Vogliamo accostarli Vediamo come La mia risposta Con gli Albine Del Verde Cobalto Tende Più Ancora A Un Blu Mentre Il verde Smeraldo È ancora Più Giallo Non sono Confrontabili Perché ripeto Ho delle scelte Diverse Quindi qua Ci confrontiamo Unicamente Sui Sui White Nights Un colore Bellissimo Presente In questa Palette È il Verde La White Nights Ci lascia Con questa Grandissima Impersonalità Non ci dà Nessun altro Tipo Di Nome Magari Più Particolare Più Pittoresco Ma ci lascia Così Verde Questo verde È fantastico Ha un'intensità Unica Una Profondità Imparagonabile Assolutamente Anche lui Farà parte Della mia Palette Degli scuri Cosa vi devo dire Su questo colore Guardate Che colore È fantastico Niente Non c'è nulla da dire Meraviglioso Giungendo ai verdi Più bistrattati Di questa palette Della sottoscrittà Abbiamo Chromium Oxide And Olive Green Anche se sto cambiando Idea su quest'ultimo Poiché Secondo me Possiamo Formare Dei colori Molto Molto Interessanti Come Golden Green Ci sono molte varianti Di Daniel Smith Interessanti Che alcuni artisti Qua su youtube Hanno fatto rivalutare Chromium Oxide Per me È una roba Inguardabile Oltre al fatto Che granuli Ho provato a usarlo Una volta In un'illustrazione Con un fucsia Sempre Degli White Nights È stato terribile Perché i colori Ancora erano molto Inesperta I due colori Si sono separati Ed era chiaramente Visibile Il fucsia Che poi Era molto blando Era un cielo Quindi era molto Molto chiaro Quindi questo Lillino Con questo verde È una roba A mio parere Allora Oscena Ed è stata Un'esperienza Terribile Però Lo voglio Utilizzare Questo Chrome Moxide Per fare Qualche Qualche Miscela Un po' Particolare Stile Moon Glow Stile Daniel Smith Shadow Violet Ha fatto Queste proposte Un po' Particolari Con questi Colori Che granulano Molto Quindi farò Qualche studio Vediamo Se riesco A portarvelo In video Perché Così Singolarmente No Grazie Siamo arrivati Alle terre Le terre È un punto Dolente Di questa palette Perché sono Molto 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 Chiare A parte Il rosso Inglese Che è uno Dei miei colori Delle mie terre Preferite Guardate Gli altri Poverini Quanto Arrancano Sotto Abbiamo La mia Proposta Shinan Con Terra di Siena Bruciata Guardate Quanto È blando Quello Della White Knight Che Strato Su strato Fa anche Un colore Interessante Però È comunque Molto Spento Per cui Secondo Me È adatto Per fare Usato Come Sottotono Quindi Se vi Aspettate Di raggiungere Con queste Terre Dei risultati Brillanti Intensi Scordatevelo Non riuscirete Mai A ottenere Dei colori Ricchi O comunque Io non sono Riuscita Nell'impresa Sono Molto Scarsi Anche Quel colore Ombra Terra d'ombra È veramente Terribile Forse Quello Che più Uso È Mars Brown Perché È quello Un po' Più Corposo Anche Se Ha Una Granulazione Piuttosto Spiccata E a volte È un po' Fastidioso Quindi L'unico Che salverei È l'English Red Oltre Il fatto Che Sia Rose Sienna Che è Yellow Okra Quindi Terra di Siena Naturale E giallo Okra Sono Difficili Da Da tirar su Dalla Dalla Cialda Cioè Bisogna scavare Se vi ricordate All'inizio del video Quando abbiamo visto Facendo Gli swatches Cioè Questo giallo Okra Non voleva Venire su E oltre a quello Era proprio Leggero Non mi è piaciuto Per niente Però Comunque Voglio dargli Una possibilità Perché come Sottotono Ad esempio Per fare Un biondo Essendo così Pallido Secondo me Rende molto bene Ad esempio Un capello platino Perché non è così violento Come magari i colori Che io ho scelto Vedete come è pallido Però come sottotono Non è male È molto carino Però ecco Sappiate che I White Nights Hanno delle terre Veramente molto Deludenti Per chi cerca Delle terre più ricche Con questo rosso Terroso Farò anche Una puntata Dedicata Con Cromania Perché è uno dei miei colori Preferiti Per fare le ombre White Nights Io lo propone Come rosso inglese Io l'ho comprato Come rosso indiano Sono delle terre Molto molto ricche Bellissime Mi piace tantissimo Questo colore Dà veramente Un'impronta Molto di carattere Ha delle ombre Mischiate con il viola Sia con il Queen Adricon Lilac O Queen Adricon Violet Che con il viola Lo uso tantissimo Indian Red Mi solito il dubbio Se negli Winsor Newton È chiamato Indian Red O English Red Ma anche lì Lo uso Con quello Insieme al Dioxys in Violet Fa delle sfumature Delle ombre Meravigliose Della mia palette Personalizzata Guardate che bella La proposta White Nights Questo sepia È favolosa Lo uso Troppo poco L'indigo Neanche a dirlo È un colore stupendo Vi metto vicino Il Dan Friend Di cui abbiamo parlato Prima Giusto per farvi vedere Proprio L'intera Transizione Di questi colori Ops Così non si vede Aggiungiamo Uno secondo qua Guardate L'intera Transizione È fantastico Perché magari Preso da solo Così In confronto Può sembrare Molto neutro Però come lo avviciniamo E lo contestualizziamo Guardate come Diventa Già più blu Però Vedete A confronto Con il Dan Friend Che prima Confrontato A quegli Ftalo Quel Ultramarine Era così scuro Guardate invece Come brilla Tenendo Tenendo comunque La sua intensità A confronto Di altri Blu Fantastico Torniamo a noi Ecco Questi li metto Abbastanza vicino Sono veramente belli I neutri Sono Molto corposi E questo brand Ha la fama Di essere più opaco Rispetto A Altri marchi europei Cosa che abbiamo visto Che non era vero In tutti i casi Però è vero Con quei neri Sono molto Intensi Per cui Li consiglio A chi usa Molto il nero Nelle sue Illustrazioni Magari che fa Illustrazioni dark Un po' gotiche Allora Questi neutri Sono veramente Molto di carattere Molto ricchi Molto molto interessanti Questa è la proposta Sennelier invece È più violacea Sono molto belle Entrambe Non saprei scegliere Forse per me Li metterei In tutte le varianti Sono molto belli Entrambi Questo tende più Al neutro Un po' più al blu Forse E questo più al viola Questa invece È la proposta neutra Che invece Confrontata a quella Di Sennelier È proprio neutra Questo è proprio Un neutral black Mentre invece La tinta neutra Di Sennelier Con un solo strato Tende al rosso Avviciniamoci E vediamola Più da vicino Con un solo strato Vedete Tende più Al rosso Se comunque Poi la guardiamo Invece Con le velature Vediamo che Questa Ha un'intensità Inferiore Questo però Ci vedo sempre Un sottotono rosso Bellissimo Per carità Forse questo È più neutro Addirittura Tende al verde Quasi Tanto è rosso Lui No Sono colori Complementari Quindi accostati Questo Addirittura Me lo fa sembrare Verde Però veramente Bellissimi Niente da dire Sulla Sulla proposta Dei neutri Della White Knights Bene Siamo giunti Al termine Di questa panoranica Su questi Acquarelli Meravigliosi Che vengono Dalla Russia Eccoli Nella loro Intera gamma Da 36 Nella Nel set Che vendono Con più cialde Disponibili Come vi ho detto Visti Contestualizzati Solo con i loro Colori Appaiono Molto brillanti Per cui Un'illustrazione Fatta entramente Con gli White Knights Dà molto risalto Sono comunque Dei colori Piuttosto brillanti E vivaci Per cui Di sicuro Non ne sarete Delusi Ovviamente Se andate Poi a viziarvi Con dei brand Molto più costosi Perché comunque Io ho fatto Un confronto Azzardato Che non sempre Ha vinto Comunque La marca Blasonata Abbiamo visto Ad esempio In quei In quei dorati Assolutamente Io scelgo La White Knights A mani basse E anche quel Giallo limone È veramente Speciale Quindi Abbiamo visto Che ha dei colori Fantastici Mi piacerebbe tantissimo Provare Il pastello Non è detto Che in futuro Non acquisterò Anche la loro proposta Sono dei colori Molto belli Che non consiglio A chi ama Le terne Perché in questo caso Sono molto carenti Di blu Abbiamo molte proposte Interessanti I verdi Neanche a parlarne Sono Sono splendidi In pieno favore Di questo brand Gioca La dimensione Dei godè Sono dei godè Pieni Quindi avrete Di sicuro Il doppio Della pittura Che avreste Con un set Normale Quindi questo Assolutamente È un punto a favore I colori Sono bellissimi Ripeto Stiamo parlando Di una Di una categoria Semi professionale E professionale Quindi comunque Non state comprando Ciofè Che sono delle pitture Meravigliose Ho visto Delle opere Soprattutto se cercate Il nome in rosso Vedrete Come dei Vedrete Degli artisti Che professionali Che li usano Con opere Strabilianti Hanno poi Un prezzo Veramente competitivo Quindi Tutto gioca a favore Di questi Di questi Acquarelli Rossi Veramente Molto particolari E vivaci L'unica pecca È il viraggio D'asciugatura Che accade Con alcuni Colori Molto violenti Ma i rossi Purtroppo Hanno un po' Questo vizietto Di perdere In intensità È un colore Molto acceso Per cui Non tutti I brand Non tutti i rossi Riescono a trattenere La brillantezza Che abbiamo Nel colore Da asciutto Quindi Valutate questo Anche Anche questo aspetto Se vi piacciono Molto i rossi Forse Non li considererei Come prima Scelta Per magari Una palette Personalizzata Abbiamo visto Comunque Che quel Hansa yellow E il giallo Limone Sono spettacolari Quei dorati Idem Anche il rosso Inglese Il rosso tiziano Molto molto carino Quel quinadricone Lilac Spettacolare Insieme al viola Veramente molto intenso E ricco Quel verde oliva E anche tutti i verdi Secondo me Tranne poi Il chromium oxide Gli ultimi Tre blu Della terza riga Sono spettacolari Come Lo smeraldo Il turchese Le terre Un po' Le salto Così come I giallocra In alto Alla fine Della prima riga Perché comunque Sono anche loro Molto Blandi E deboli E poi I neutri Di cui ho assolutamente Avuto da dire Solo belle cose Quindi questa è stata La mia revisione Su questi Acquirelli Russi Non me ne vogliate Se non inserisco In questa review Una dimostrazione Di questi Acquirelli Ma vi lascio Un link Del dipinto Di Donovan Che ho caricato Su questo canale Realizzato Con UI Nights Ma il video È già Oltre i 40 minuti Quindi Lo fermerò qua Ma Vi lascio Con la promessa Di realizzare Dei video Più dedicati Con illustrazioni Solo Solamente usando Questa palette Così come Le farò Solamente usando Altre Palette In mio possesso Per cui Vi ringrazio Per la visione E ci vediamo Al prossimo video